la prima luce del mattino autunnale si specchiava sulla superficie verde del fossato interno del palazzo imperiale l'affa soffocante di settembre cominciava finalmente a dissolversi Kazuyuki Asakawa era arrivato a metà della rampa della metropolitana quando all'improvviso cambiò idea voleva vedere l'acqua da vicino e non come sempre dal nono piano gli sembrava che l'aria viziata degli uffici della redazione fosse impenetrata fin laggiù nel seminterrato come la feccia che si posa sul fondo di una bottiglia voleva respirare aria pura risalì le scale fino alla strada col parco del palazzo davanti a sé non trovava più cose fastidiose le esalazioni prodotte dalla confluenza tra la super strada 5 e la circonvallazione nella frescura mattutina il cielo andava schiarendo era stanco perché era rimasto in piedi tutta la notte però non aveva sonno la soddisfazione di aver completato l'articolo lo stimolava mantenendo attive le cellule cerebrali erano due settimane che non si prendeva un giorno di pausa e aveva intenzione di trascorrere quel giorno e successivo a casa per godersi un meritato riposo se la sarebbe presa comoda ordini del direttore vide un taxi libero arrivare dalla direzione di kudanshta e istintivamente alzò la mano la sua tessera della metropolitana faceva il pendolare sulla linea data che basce a shimbabwe era scaduta due giorni prima e lui non l'aveva ancora rinnovata arrivare con la metropolitana fino al condominio di kitashiganawa dove abitava gli sarebbe costato 400 yen mentre col taxi avrebbe dovuto sborsare quasi 2000 yen detestava sprecare più di 1500 yen ma pensando ai tre cambi di linea obbligatori nonché al fatto che lo avevano appena pagato decise che poteva concedersi quel lusso la sua decisione di prendere un taxi quel giorno e in quel punto non fu altro che un capriccio il risultato di una serie di impulsi innocui quando era uscito dalla metropolitana non pensava affatto di fermare un taxi era stato sedotto dalla possibilità di prendere una boccata d'aria poi però gli si era avvicinato un taxi col segnale rosso di libero acceso e in quell'istante il pensiero di acquistare un biglietto e di cambiare linea in tre stazioni diverse gli era sembrata una fatica superiore alle sue forze d'altra parte se avesse preso la metropolitana per tornare a casa quasi certamente nessuno avrebbe collegato un paio di incidenti sono molte le storie che prendono avvio da coincidenze del genere il taxi si arrestò davanti al palazzo della dieta il conducente era un uomo piccolo sulla quarantina e dava l'impressione di essere rimasto in piedi anche lui tutta la notte tanto aveva gli occhi arrossati sul cruscotto c'era una foto a colori con accanto il nome del conducente mikio kimura a kita shigenawa per favore quando sentì la destinazione kimura fu tentato di improvvisare un balletto di gioia kita shigenawa era poco più in là del garage della centrale e dato che la fine del suo turno era vicina aveva intenzione di andare comunque da quella parte in momenti come quelli quando aveva un'intuizione azzeccata le cose andavano per il verso giusto si rammentava quanto gli piacesse fare il tassista d'un tratto gli venne voglia di parlare sta seguendo una storia con gli occhi iniettati di sangue per la stanchezza asakawa guardò fuori dal finestrino lasciando vagare liberamente pensieri come rispose subito allerta chiedendosi come faceva il tassista a conoscere la sua professione lei è un giornalista lavora per un quotidiano già per il supplemento domenicale veramente ma lei come fa saperlo kimura guidava il taxi da quasi vent'anni e riusciva a intuire l'occupazione di un cliente dal punto in cui lo prendeva a bordo dall'abbigliamento e dal modo di parlare se l'altro aveva un lavoro interessante e ne andava orgoglioso era sempre disposto a parlarne deve essere dura andare al lavoro così di buon'ora no al contrario vado a casa a dormire ah allora è proprio come me di solito asakawa non era particolarmente orgoglioso del proprio lavoro ma quel mattino era pervaso dalla stessa soddisfazione provata la prima volta in cui aveva visto stampato un articolo scritto da lui aveva finalmente concluso una serie di pezzi alla quale stava lavorando e ora avvertiva la reazione il suo è un lavoro interessante sì credo di sì rispose asakawa senza scoprirsi troppo a volte era interessante e a volte no ma in quel momento non gli andava di entrare nei dettagli non aveva ancora dimenticato il falimento catastrofico di due anni prima ricordava benissimo il titolo dell'articolo al quale stava lavorando allora i nuovi dei dell'era moderna e gli venne in mente la figura disastrosa che aveva fatto tremando di fronte al direttore in attesa che quest'ultimo gli comunicasse che non avrebbe potuto continuare a lavorare come cronista per qualche tempo a bordo del taxi regnò il silenzio imboccarono a velocità sostenuta la curva sinistra della torre di tokyo mi scusi disse poi kimura devo prendere la via del canale o la keihin 1 l'uno all'altra risultavano più convenienti a seconda del punto di kitashiganawa verso il quale erano diretti prenda la superstrada e mi lasci poco prima di shinbaba quando sa con precisione dove diretto il cliente un tassista può rilassarsi un po kimura svolto a destra all'altezza di hudonotsuji si stavano avvicinando all'incrocio che da un mese a quella parte kimura non riusciva a togliersi dalla mente a differenza di asakawa era che era ossessionato dai fallimenti kimura poteva riandare col pensiero all'incidente in modo abbastanza obiettivo dopo tutto la responsabilità non era stata sua quindi non aveva dovuto farsi un esame di coscienza era tutta colpa dell'altro e nessuna precauzione da parte sua avrebbe potuto evitarlo era rimasto letteralmente sconvolto dal terrore che aveva provato un mese possibile che fosse passato tanto tempo il tassista non poteva sapere che asakawa era ancora sotto l'effetto del terrore che aveva conosciuto ben due anni prima ogni volta che passava da quell'incrocio kimura chissà perché si sentiva spinto a parlare alla gente dell'accaduto se lanciando un'occhiata allo specchietto retrovisore vedeva che il cliente dormiva rinunciava altrimenti raccontava a tutti i passeggeri senza eccezione tutto ciò che era successo era più forte di lui proprio qui circa un mese fa è successa la cosa più incredibile come se avesse atteso che kimura cominciasse a raccontare il semaforo all'incrocio passò dal giallo al rosso sa a questo mondo succedono tante cose strane alludendo in quel modo alla natura della storia kimura tentava di stuzzicare l'interesse del passeggero asakawa era semi addormentato ma a quel punto alzò la testa di scatto guardandosi freneticamente intorno era stato svegliato dal suono della voce di kimura e cercava di capire dove fossero che lei sappia i casi di morte improvvisa sono in aumento tra i giovani voglio dire come quella frase destò unico nelle orecchie di asakawa morte improvvisa kimura riprese a parlare è solo che mi pare che sia successo circa un mese fa sono proprio qui fermo sul taxi in attesa che il semaforo diventi verde ed un tratto sta motocicletta mi cade addosso non che fosse in movimento e si fosse rovesciata no era immobile poi di colpo bang e cosa crede che sia successo subito dopo il conducente era un ragazzo che frequentava una di quelle scuole private per la preparazione al college aveva solo 19 anni è morto il poveraccio mi ha messo in corpo una paura del diavolo glielo assicuro e così arriva l'ambulanza i poliziotti e il mio taxi l'aveva urtato capisce una scena incredibile glielo dico io asakawa ascoltava in silenzio ma essendo un cronista con dieci anni di carriera alle spalle aveva sviluppato un certo fiuto per le storie di quel genere con una prontezza istintiva quasi automatica annotò il nome del conducente e della centrale di taxi per cui lavorava anche il modo in cui è morto è stato un po strano cercava disperatamente di togliersi il casco anzi di strapparselo dalla testa steso sulla schiena dimenando le braccia e le gambe sono andato a chiamare l'ambulanza però quando sono tornato era già stecchito dove ha detto che è successo asakawa ormai era svegliissimo proprio laggiù vede kimura indicò il semaforo pedonale davanti alla stazione la stazione di shinagawa si trovava nella zona di takanawa del quartiere di minato asakawa si impresse nella memoria quel particolare un incidente avvenuto in quel punto rientrava nella giurisdizione del distretto di polizia di takanawa riflette rapidamente per decidere quale dei suoi contatti gli avrebbe permesso di accedere alla stazione di polizia di takanawa era in quei momenti che il lavoro dei giornalisti di un grande quotidiano rivelava i suoi lati positivi avevano contatti ovunque e talvolta la loro capacità di raccogliere informazioni era superiore a quelle delle autorità e così l'hanno definita a morte improvvisa non era sicuro che quello fosse il termine medico corretto si affrettò a fare quella domanda senza neanche capire per quale motivo l'incidente lo avesse colpito tanto pazzesco vero il taxi era fermo lui è arrivato e che semplicemente è caduto sopra ha fatto tutto da solo eppure ho dovuto compilare un rapporto sull'incidente e per poco non l'hanno notato sul fascicolo dell'assicurazione glielo dico io è stato un autentico disastro come un fulmine a ciel sereno ricorda esattamente in quale giorno e a che ora è successo tutto questo allora fiuta una storia eh settembre vediamo doveva essere il quattro o il cinque erano all'incirca le 11 di sera mi pare non appena lo disse timurà ebbe un flashback d'aria fosa l'olio nero che colava dalla moto rovesciato sul fianco l'olio che scivolava verso la cunetta sembrava una creatura vivente i fari si riflettevano sulla superficie mentre formava goccioline viscose e finiva silenziosamente nella conduttura delle fogne il preciso istante in cui gli era sembrato che i sensi lo tradissero poi il viso sconvolto del morto con la testa appoggiata sul casco ma che c'era di così straordinario poi il semaforo diventò verde kimurà premette l'acceleratore dal sedile di dietro giunse un fruscio di penna che correva sulla carta asakawa stava prendendo appunti kimurà era in preda alla nausea per quale motivo il ricordo era così nitido inghiottì per mandar giù la bile che gli era salita in gola sforzandosi di soffocare quella sensazione di nausea allora qual è detto che è stata la causa della morte domandò asakawa attacco cardiaco attacco cardiaco era stata davvero quella la diagnosi del medico legale aveva l'impressione che fosse un termine ormai indisuso dovrò controllare anche questo insieme con la data e l'ora mormorò asakawa continuando a prendere appunti in altre parole non c'era nessuna ferita esterna sì proprio così niente di niente è stato soltanto lo shock voglio dire se qualcuno doveva essere sotto shock quello re quello ero io no come ecco insomma beh il morto aveva un'espressione così stravolta asakawa sentì qualcosa scattare nella sua mente nel contempo una voce dentro di lui negava l'esistenza di qualsiasi innesso tra i due incidenti una pura coincidenza tutto qui davanti a loro apparve la stazione di shimbawa sulla linea della metropolitana di keihin kyugo al prossimo semaforo svolti a sinistra e mi faccia scendere per favore il taxi frenò e lo sportello si aprì asakawa forse al conducente più di 2000 yen insieme con un biglietto da visita mi chiamo asakawa e lavoro per il daily news se per lei va bene vorrei sentire di nuovo la sua versione della storia con maggiori dettagli a me va bene rispose kimura in tono soddisfatto chissà perché aveva l'impressione che quella fosse la sua missione la chiamerò domani o dopo domani vuole il mio numero non importa ho annotato il nome della centrale vedo che non è lontana asakawa scese dal taxi e stava per chiudere lo sportello quando esitò provava un terrore indistinto al pensiero di ottenere la conferma di quello che aveva appena sentito forse farei bene a non ficcare il naso in qualche strana storia potrebbe essere una replica dell'ultima volta ma ormai il suo interesse era stato ridestato e non poteva svanire lo sapeva fin troppo bene rivolse un'ultima domanda a kimura per caso quel tale si dibetteva per il dolore cercando di togliersi il casco iscriviti al mio canale e attiva la campana delle notifiche sarai così sempre aggiornato sulla pubblicazione dei nuovi capitoli a presto